che la vita è un buono prezioso, meraviglioso, che Dio ci ha donato e che questa vita continua a parlare nel tempo, sempre, perché ognuno ha sempre da imparare qualcosa e sicuramente questo nostro fratello, questo figlio di questa cittadina ci ha insegnato e continuerà a insegnarci come vivere la nostra esistenza. E allora all'inizio di questa cittadina, perché possiamo legnamente partecipare, chiediamo innanzitutto perdono dei nostri peccati. Un cuore puro rinnova in me, con il tuo spirito. Lo spirito di santità, signore pietà, signore pietà. No so amare, signore pietà.